Salve e benvenuti al nostro amico. Il libro che oggi vuole compiere insieme a voi, amici, telespettatori e telespettatrici, un itinerario. Prendiamo a prestito l'espressione anselmiana, itinerarium mentis in deum. Attraverso la scrittura, le immagini, la storia, l'arte, partiamo da questa introduzione all'Antico Testamento in due volumi che ci viene dal messaggero di Padova. Il primo volume è firmato da Gianni Cappelletto, in cammino con Israele. Il secondo, Gianni Cappelletto, viene affiancato da Marcello Milani, in ascolto dei profeti e dei sapienti. Come per ogni introduzione che si rispetti, è uno sguardo d'insieme, ma sufficientemente attento al contesto. Parola di Dio e parola umana, l'ambiente storico, il clima culturale e poi a mano a mano il Pentateuco. I vari libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e ancora, andando avanti, il Deuteronomio. Nella seconda parte, i profeti anteriori e nella terza parte, il cronista, i maccabei e altre relazioni. Nel secondo volume di questa introduzione all'Antico Testamento, vediamo i profeti. Si parte dalla definizione, dall'ambiente, dal concetto, anche in questo caso analogie, quindi simiglianze e differenze con altri fenomeni analoghi. E poi a mano a mano. Isaia, Geremia, Ezechiele. Passando ai libri sapienziali, ecco la sapienza, i salmi, in modo particolare. Questa è una buona introduzione all'Antico Testamento. Ripetiamo dalla Messaggero di Padova in due volumi. In particolare, facciamo un po' sempre così, alternando volumi di carattere più generale a volumi di carattere più particolari. Volumi destinati al grande pubblico e volumi più specifici di approfondimento di studio. Ecco, dalle Paoline di Gianni Barbiero, le confessioni di Geremia, storia di una vocazione profetica. Abbiamo già visto. Geremia, tra i profeti, in questo cammino con Israele, è in ascolto dei profeti e dei sapienti. Naturalmente qui il discorso viene ripreso e approfondito a mano a mano che si sviluppa il libro di Geremia a partire dalla sua vocazione. E poi il dialogo, anche molto vivace, tra Geremia, che si lascia sedurre ma a fatica, che accetta la sua missione profetica, che comporta dolori, sofferenze. Geremia morirà in esilio e c'è questo dialogo drammatico con Dio dove, al di là dell'espressione anche violente, c'è comunque la fiducia di Geremia nella misericordia, nella presenza, nell'assistenza di Dio. E andando avanti al Nuovo Testamento, i primi scritti del Nuovo Testamento, le lettere di Paolo. Ecco allora dalla Carocci, nei Quality Paperbacks, Paolo di Tarso, le lettere di Andrea Albertin. Dopo una introduzione generale sulla vita, la formazione, la cultura di Paolo, la questione delle lettere, quante, quali autentiche di Paolo, quante perdute, quante apocrife. E poi una per una, vedete, possiamo inquadrare le lettere di Paolo con gli aspetti letterani, il messaggio specifico di ogni lettere con la caratteristica che sono, in pratica, tutte lettere occasionali, nel senso più nobile, cioè quando si presenta un problema, Paolo scrive una lettera a comunità che ha conosciuto o sta per conoscere e dà la sua soluzione ai problemi, che sia quella della vita comunitaria, che sia quella della celebrazione eucaristica, che sia quella del rapporto con l'Antico Testamento, eccetera. E da questa prima sezione stiamo compiendo, quindi in pratica, da l'inizio di un itinerarium mentis in deum, potremmo mettere anche un punto interrogativo a seconda dei casi, a una seconda sezione, non meno bella, non meno interessante, da Castelvecchi di Ralf Röder Savonarola, un profeta dunque, un profeta moderno, un profeta nel rinascimento fiorentino. Ralf Röder ha scritto questo volume, lo ha pubblicato nel 1930, questa è una ripresa contemporanea dei nostri giorni, come al solito noi facciamo con le nostre pubblicazioni, non è la prima volta che dobbiamo lodare questa iniziativa della Castelvecchi di recuperare testi che meritano di essere riproposti, soprattutto quando, come in questo caso, l'originale in tedesco, si offre la traduzione italiana allargando quindi la fruibilità a un pubblico più vasto. È un profilo biografico, si parte dalla giovinezza, Savonarola nasce a Ferrara, poi la sua vocazione alla vita religiosa, vincendo anche qualche resistenza da parte della sua famiglia, c'è una bella lettera al padre, si prospetta nel volume il clima politico, culturale, siamo nell'ambiente del rinascimento, poi Savonarola si sposta a Firenze, al convento domenicano di San Marco, comincia la sua predicazione sempre più infiammata, interviene nelle questioni sociali e politiche, prospetta una cancellazione delle forme pagane di un rinascimento fiorente, ma dallo scarso spirito cristiano cominciano le difficoltà con Roma, scriveva sua santità, Alessandro VI, di letto figlio, salute e apostolica benedizione, desideriamo, come la nostra missione ci impone, di intrattenerci teco, onde meglio conoscere la volontà del Signore e poterla mettere in pratica, in virtù della santa obbedienza, ti esortiamo a raggiungerci al più presto, ti accoglieremo con caritatevole amore, ma Savonarola non crede a questo invito così suadente di Alessandro VI, Papa Borgia, e continua sempre più accesa e viva la polemica, Savonarola predica l'incendio delle vanità, che erano anche grandi opere d'arte, impone una vita quasi monastica a tutta la città e quindi si può immaginare un clima rovente dove ci sono gli arrabbiati, ci sono i piagnoni, c'è questo anche braccio di forza tra la Repubblica Fiorentina che nel frattempo viene pratica abbattuta o molto condizionata dalla discesa di Carlo VIII di Francia e alla fine poi il Papa lancia l'interdetto su Firenze che è costretta praticamente a consegnare, come si dice, al braccio secolare questo frate, abbiamo corretto qualche volta l'espressione impropria di monaci, si trattava di frati, non di monaci e come sappiamo Girolamo Savonarola insieme a due suoi fidi, discepoli e compagni viene impiccato e arso vivo, andando molto più avanti da città nuova di Dietrich Bonhoeffer la vita comunitaria dei cristiani. Molte volte ci siamo occupati di questo martire della Chiesa confessante che si oppone al nazismo, Dietrich Bonhoeffer avrebbe potuto salvarsi, si trova negli Stati Uniti per un viaggio di conferenze, eccetera, ma rientra nella Germania di Hitler, tiene a Fingewald un seminario a studenti di teologia e questo ideale che viene ripreso dalla prima comunità di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli e proposto ai cristiani la vita comunitaria con i vari momenti della preghiera, della liturgia, dei passi comuni, della messa in comune dei beni, dello studio, della predicazione, poi si arriva fino all'epilogo, ma leggiamo alcune espressioni per esempio degli inni religiosi di Paul Gerhardt che venivano regolarmente letti e cantati in questa comunità, la testa, i piedi e le mani godono ora della fine del lavoro, cuore mio rallegrati perché sarai infine libero dalla miseria di questa terra e dal lavoro che ci viene dal peccato, per dire che Dietrich Bonhoeffer si collega alla migliore tradizione che va naturalmente dalla scrittura come sempre hanno fatto in modo particolare gli evangelici, poi agli autori di spiritualità, ai mistici, ne abbiamo citato uno, Paul Gerhardt, e poi anche la vita liturgica e sacramentale, la confessione che per gli evangelici non è un sacramento vero e proprio ma è una forma di comunicazione, consiglio, illuminazione fraterna, confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri citando Giacomo e poi la Santa Cena. Ecco, uno dei lasciti di questo martire che lo abbiamo ricordato molte volte è morto poi perché partecipa per un ideale religioso a una congiura contro il dittatore, ora la congiura viene scoperta e Dietrich Bonhoeffer viene impiccato come vollero i giudici il tribunale nudo come un verme dalle Dioniane di Bologna di Mirella Susini cercatori di Dio il dialogo tra cristiani e musulmani nel monastero dei martiri di Tibirine con documenti inediti rinvenuti in Algeria Marocco e Francia è un gruppo di monaci che nell'Algeria che sta combattendo contro la Francia vengono si pongono come un ponte con il mondo islamico ma i fondamentalisti islamici algerini dopo avere tentato inutilmente di far entrare questi monaci in qualche modo come se non proprio fiancheggiatori aiutanti della causa algerina questi monaci vengono sgozzati e qui viene ricostruito il lungo iter appunto un itinerario ma anche questo di dialogo attraverso i resoconti i bollettini che vengono scritti e diffusi a mano a mano di questi incontri tra i monaci cristiani e esponenti del mondo islamico un itinerario un tentativo di dialogo che continua anche dopo il martirio dei monaci di Tibirine che qui viene pubblicato venendo a noi vicino più vicino a noi dalla editrice erogate dei erogazionisti Ernesto della Corte è un sacerdote specializzato in sacra scrittura esercizi al popolo esercizi spirituali al popolo a gruppi a sacerdoti noi abbiamo avuto la gioia e il piacere di ascoltarlo nella nostra diocesi il Signore si è legato a voi le persone consacrate luce del regno da questa ecco una gentile dedica dell'autore a chi vi parla l'autore prende questa espressione del deuteronomio e ne fa l'emblema della vita consacrata proprio in occasione dell'anno giubilare della misericordia per approfondire l'aspetto particolare che riguarda appunto i consacrati e allora la vita consacrata dal Vaticano II a Papa Francesco la vita consacrata esegesi vivente dalla parola di Dio Geremia di cui abbiamo parlato il profeta sedotto da Dio poi si riprende il deuteronomio con l'espressione che dà il titolo a questo volume il Signore si è legato a voi e a scelti e ancora Isaia i salmi il cantico e dei cantici fino alla lettera apostolica del Santo Padre Francesco a tutti i consacrati in occasione della vita consacrata che viene appunto proposto anche nell'ampio quadro del giubileo della misericordia e concludiamo questa piccola sezione di questo quadro di un itinerario mentis in deum con questo bel ricco volume che ci viene dalla FUP Firenze University Press la diocesi di Bobbio formazione e sviluppi di una istituzione millenaria a cura di Eleonora De Stefanis e Paola Guglielmotti una storia medioevale una storia millenaria abbiamo detto e vedete dall'indice i contributi sono in diverse lingue e si parte da Enrico II che interviene spesso e volentieri in questione ecclesiastica era anche molto rispettato amato dal Papa dai Vescovi per il suo impegno religioso e quindi Enrico II approfitta tra virgolette per intervenire nella nella costituzione nel riconoscimento delle realtà locali quindi anche erezioni di episcopati e allora si passa da questo quadro politico alla diocesi e alle diocesi nell'Italia dell'undicesimo e dodicesimo secolo poi quelli che sono i registri i documenti e si passa poi a Bobbio Bobbio era all'inizio una comunità monastica poi nasce la sede viene istituita la sede episcopale c'è inevitabilmente un periodo di contrasto e alla fine la comunità monastica deve rientrare diciamo così nel quadro della diocese e qui a mano a mano i castelli e i signori la cura animarum la rete degli ospedali il tutto ampiamente e riccamente documentato noi possiamo per dare un esempio vedere un po' intanto a pagina ci sono naturalmente delle immagini a pagina 323 e seguenti molti particolari della cattedrale che qui viene illustrata è un primo esempio di inserto iconografico abbiamo poi un elenco dei libri conservati nella ricca biblioteca ci contentiamo di i libri della cattedrale di Bobbio vediamo qui ecco un esempio dagli archivi storici diocesani e poi alcune immagini di alcune alcuni esempi particolari di miniature esempi musicali e un'ultimo un'ultima illustrazione vogliamo dare inquadrando così le ultime pagine delle conclusioni che gettano uno sguardo su questa storia millenaria novità e permanenza nei quadri religiosi si comincia con l'affermazione di Gregorio VII che poi si scontrerà con Enrico IV e si dà una interpretazione complessiva di questa storia millenaria che entra nella storia della Chiesa e nella storia dei rapporti tra la Chiesa e l'Impero e veniamo a un'altra sezione questa volta più propriamente letteraria partendo da lontano passato e presente nei generi letterari dionisiaci del V secolo a.C. di Bernard Zimmerman nella greca tergestina c'è collezione di studi sulla Grecia nell'Università di Trieste infatti EUT sta per Università di Trieste edizione dell'Università di Trieste e i generi letterari dionisiaci sono quelli legati alle grandi dionisiache che erano feste religiose in cui si rappresentavano commedie tragedie altre rappresentazioni teatrali e qui a mano a mano vengono rappresentate vengono illustrati i contributi di questi autori si parte dalle Eumenidi di Eschilo l'antigone di Sofocre e l'Oresto di Euripide per passare poi a un ricco capitolo dedicato ad Aristofano nel quale non meno dei tragici nelle sue commedie illustra la storia greca con maggiore disincanto rispetto alla rappresentazione epica dei tragedi e finalmente l'apparato bibliografico venendo all'ottocento tedesco di Sandro Moraldo Eta Hoffman vita e opere questo è il primo di due volumi vita romanze e fiabe da vita e pensiero Hoffman vive tra il 1776 e il 1822 quindi a cavallo ma è il periodo d'oro della letteratura tedesca la cosiddetta età di Goethe l'età dei romantici di Novalis di Hölder il manga dei grandi filosofi da Fichte Schelling Geigel e più avanti e si comincia intanto con la vita movimentata di questo autore che viaggia molto scrive scrive poesie scrive romanzi e poi naturalmente dopo il profilo biografico e i suoi viaggi si si dà un prospetto abbastanza dettagliato degli Elisir del diavolo e del gatto Mur che sono tra le composizioni più note ma anche le fiabe non sono da meno il vaso d'oro il piccolo zaccheo detto cinabro la principessa brambilla e maestro pulci un autore molto interessante vivace inquieto che aspira alla gloria si occupa di letteratura si occupa di musica cerca anche dei degli impieghi governativi sicuri con con fasi altalenanti e naturalmente la sua vita come normalmente succede si intreccia a quelle degli altri grandi abbiamo citato Goethe abbiamo citato i filosofi abbiamo citato Novalis ma molti di loro entrano nella sua vita come anche storie d'amore fino anche al suo matrimonio in questa pubblicazione periodica della Olsk studi di letteratura francese abbiamo diversi episodi diversi momenti diverse figure di questo che abbiamo chiamato itinerario della mente in Dio si parte dal petrarchismo spirituale con Vittoria Colonna adesso daremo un esempio concreto poi Montaigne Balzac Paul Bourget ancora Montaigne Montesquieu Rimbaud Apollinaire e i poeti della Grande Guerra come si vede come succede in una pubblicazione periodica diverse figure diversi personaggi ma non c'è stato difficile recuperare un riferimento opportuno appropriato concreto alla nostra trasmissione e allora vediamo che cosa abbiamo preparato per voi una composizione poetica lo anticipavamo di Vittoria Colonna Padre eterno del Ciel se tua mercede vivo ramo son io nell'ampia e nera vite che abbraccio il mondo e chiusa intera vuol la nostra virtù seco per fede l'occhio divino tuo languir mi vede per l'ombra di mie fronde intorno nera se nella dolce eterna primavera il quasi secco umor verde non riede purga mi sicchio permanento seco mi cibi ogni orde alla rugiada santa et rinfreschi col pianto la radice verità sei dicesti del sermeco vien dunque lieto un dio frutto felice faccia in te degno a sé gradita pianta questa è Vittoria Colonna e dall'Italia rinascimentale cinquecentesca alla Russia dell'Ottocento da Giuliano all'Adolfi ancora un bel volumetto questa volta canti di Alessandria di Michael Kuzmin e dopo il profilo biografico la la poetica di questo autore che sogna quasi l'Alessandria mitica a cui abbiamo accennato prima cioè il mondo greco il mondo dei miti il mondo degli eroi dove questo poeta abbastanza introverso potremmo dire crepuscolare trova rifugio pensando così trasferendosi mentalmente con le sue composizioni poetiche qui vengono riportate nel testo originale russo a sinistra e la traduzione italiana a destra vive questa evasione poetica da un mondo che lui trova grigio abbiamo usato il termine crepuscolare le gote tue olivastre demaciate gli occhi grigi sotto scuri sopraccigli l'incomparabile armonia del busto così due occhi innamorati san vedere ciò che il sapiente cuore ingiunge loro Michael Kuzmin ha vissuto amori omosessuali ed eterosessuali e nelle sue composizioni rivive queste realtà che in vita non potevano non procurargli qualche problema quando esco di casa al mattino penso mirando il sole quanto somiglia a te mentre ti bagni nel ruscello o scruti gli orti di lontano e quando nel rovente mezzogiorno guardo lo stesso sole che divampa ancora mi figuro mio tesoro quanto somiglia a te che incedi per la via affollata anche vedendo tramonti struggenti sempre tu alla memoria mi sovvieni mentre ti arrendi l'anguidito al sonno e le abbrunite palpebre reclini si intravede questo questo idiglio tra l'imperatore Adriano e questo giovinetto egiziano che poi muore giovane ma un'ultimissima citazione dobbiamo fare per dare un'idea di questo crepuscolarismo di Cusmin dolce e morire sul campo di battaglia al sibilar di lance e frecce mentre la tromba squilla e il sole brilla in pieno giorno morire per la gloria della patria sentendo dire attorno addio eroe dolce morire da venerabile vegliardo la novella di Apuleio cento volte letta dentro una vasca tiepida fragrante senza sentire alcun addio incidersi le vene e che dal lucernario sul soffitto si spando odori violacciocche arde il cropuscolo e di lontano si odono dei flauti e il mondo tra antico classico e mitico che rivive nei canti di Alessandri Cusman abbiamo un volume nella biblioteca della storia dell'educazione e della letteratura infantile dalla editrice dell'università di Macerata Diana Ascenza e Roberto Sani tra disciplinamento sociale ed educazione alla cittadinanza l'insegnamento dei diritti e doveri nelle scuole dell'Italia Unita 1861-1900 quindi appena dichiarato l'unità d'Italia 1861 e cominciano i programmi per fare dell'Italia Unita anche una nazione con una letteratura una cultura un'educazione nazionale allora mano a mano tra pedagogia e politica i programmi del ministro Casati formare il galantuomo operoso con la precisazione che questo galantuomo operoso doveva servire i ricchi i borghesi i proprietari insomma fare dei cittadini dei buoni operai al servizio di per preparare al loro alto ufficio i generosi educatori dei figlioli del popolo quindi tra i politici i ricchi i governanti e il popolo questa classe intermedia degli educatori dei maestri per fornire una necessaria e compiuta istruzione civile e politica alla piccola borghesia urbana e ai nuovi ceti produttivi e veniamo appunto alle retoriche della cittadinanza e struttura classista e poi le scuole elementari le scuole tecniche e i manuali di diritti e doveri dei cittadini allora tra disciplinamento sociale ed educazione a cittadina dalla università di macerata dalla adolfi canti di alessandro e michael kuzmin dalla olski studi di letteratura francese ci siamo soffermati su vittoria colonna da vita e pensiero hoffman vita e opere e dalla universitaria di trieste passata e presente nei generi letterari dionisiaci con eschilo euripide sofocle e anche aristofane una ricca sezione dalla Firenze dell'università di Presla di Oces di Bobbio formazione e sviluppo di una istituzione millenaria tra impero e chiesa storia politica cultura e libri dalla editrice erogata di don Ernesto della corte il signore si è legato a voi le persone consacrate luce del regno dalle dioniane di Bologna di Mirella Susini cercatori di Dio il dialogo tra cristiani e musulmani nel monastero dei martiri tibirine da città nuova di Dietrich Bonhoeffer la vita comunitaria dei cristiani e da Castelvecchi riproposto un vecchio studio di Ralf Röder Savonarola eravamo partiti come amiamo fare partiti per questo itinerario dalla sacra scrittura due ricchi volumi di introduzione all'antico testamento di Gianni Cappelletto e Marcelli Milani Milani in cammino con Israele in ascolto dei profeti dei sapienti un volume dedicato a Geremia di Gianni Barbiero le confessioni di Geremia delle Paoline e da Carocci di Andrea Albertin Paolo di Tarso le lettere e concludiamo questo itinerario con due volumi dedicati all'arte partiamo da questa pubblicazione di Antiga Carlo Conte sculture dei musei civici di Treviso già in copertina una scultura e si vede che diverse sculture hanno qualche hanno subito come si dice l'ingiuria del tempo e queste sculture che sono per la maggior parte calchi di gesso ma a volte anche sia pure più raramente dei bronzi sono il mondo poetico possiamo dire di Carlo Conte con molte figure infantili figure di donne e ripetiamo molti di questi reperti hanno subito dei danni nel tempo ma sono stati donati dalla famiglia in qualche modo quando è stato possibile anche restaurati e qui a mano a mano vengono presentati e illustrati e concludiamo per davvero con questa pubblicazione oggi alla Firenze University Press abbiamo dedicato due volumi questo è il secondo volume la solitudine dei luoghi viaggi e architettura ai confini potremmo dire dell'impero parafrasando il titolo di un romanzo Alberto Pireddu chiaramente sardo e dopo una bella introduzione che fa vedere i rapporti tra letteratura e fotografia abbiamo intanto parecchie citazioni letterarie di autori letterati o fotografi come Cartier Bresson che con diversa attenzione qui abbiamo sotto gli occhi Giuseppe Pagano un cacciatore di immagini e vedete a destra le immagini che ci rappresentano appunto questi luoghi solitari che sono i villaggi le città il mare la montagna l'agricoltura la pastorizia della Sardegna con cui concludiamo questo nostro itinerario con il solido ma cordialissimo buona lettura grazie arrivederci grazie